Cambiano i marchi, le persone, restano. Centro spedizioni, ballaggi, logistica, in via 25 Luglio a Cava dei Tirreni. Torna alla ribalta la problematica dell'inquinamento acustico lungo il tratto urbano della Tre che attraversa Cava dei Tirreni. Nelle scorse ore il sindaco Vincenzo Selvalli e il vice sindaco con delega all'ambiente ai lavori pubblici Nunzio Senatore hanno sollecitato con una missiva i ministeri interessati a concludere l'iter per dare finalmente una risposta concreta ai residenti lungo l'autostrada 3 Napoli-Salerno costretti da decenni a subire l'inquinamento acustico dovuto al traffico autostradale e che attendono da anni la messa in opera dei pannelli fonoassorbenti. La società autostrade meridionali ha da anni completato il piano di risanamento acustico ma ai continui solleciti dell'amministrazione comunale ha risposto che tutta la fase dell'istruttoria tecnica di approvazione è da tempo conclusa e che per l'avvio del piano attuativo è in attesa delle convocazioni della conferenza dei servizi conclusiva da parte del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'assessore Nunzio Senatore si è detto fiducioso sulla risoluzione della problematica.